Signori, totalmente a caso, ma talmente a caso che neanche quelli dell'Epic Games se lo aspettavano, è uscito un nuovo aggiornamento di Fortnite nel quale hanno inserito un bordello di cose. Oggi andiamo a scoprire, scopriamo tutti i segreti, tutti i misteri incredibili. Vi invito a lasciare un mi piace, un commentino e soprattutto, signori, condividete il video per far vedere tutti questi segretucci che saranno il delirio. E iniziamo. E tra l'altro ci sono anche nuovi poteri, figata totale, assurdo. Signori, finalmente benvenuti sul bus e oh mio dio che cos'è quel bestione lì della battaglia. E ci sono zone nuove? Sì, che cos'è questa? Non ci interessa per il momento, ci interessa questo mega bestione ciccione che mi ricorda tra l'altro una zona della vecchia mappa. Quindi io incrocio le dita talmente tanto sperando che sia una vecchia zona, oltre ovviamente alla Stark Industries, che è una figata totale. Quindi andiamo a scoprire cose incredibili e soprattutto ci metteremo tre ore ad atterrare, quindi ci vediamo dopo. Vedo una tripletta, che in realtà è una doppietta, e la prendo e sparo a quel tipo che si è salvato per miracolo. Yeah! Pompa, che fa schifo, ma vabbè è pur sempre un pompa. Tra l'altro ve lo dico tranquillamente, tranquillamente moriremo, oddio c'ho l'audio altissimo, moriremo tantissime volte. Però almeno ci proviamo, continuerò a fare i restart, si spera almeno possibile. Ma hey! La vedo dura. Detto ciò, andiamo a pusciare sto tizio che fa finta di non vederci, ma noi l'abbiamo tranquillamente visto. E ce n'è qua dentro un altro. Ok. Muori! E dammi quel pompa! E dammi quel pompa! C'è la mitraglietta! Allora, c'è qua un tizio, ma non so dove... Oh! Oh, sta volando! Ma cosa mi stai dicendo? No, no, uccidiamolo subito! Strarubata la kill! Ai 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 ai! No, dai! Non riuscivamo a... Dai! Signori, però abbiamo visto che... C'è Groot! Con mini Groot! Che carino! Guarda quanti poteri che si ottengono da dentro il laboratorio! Vabbè, secondo tentativo! Che delirio! Che bello! Dai, non c'è neanche un'arma! Non ci credo! Non ci credo mai! Mai ci credo! Ah, ma guarda qui il pompa! Dammi il pompa, se no il tipo mi ammazza! Allora, ho accopato un robot! C'ho un tipo dietro che mi vuole accoppare a sua volta! E lo voglio però hackerare! Vengi, vengi, signor robot! Vengi! Diventi mio amico, va là! Perfetto! Che figata! Ammazza, robot! Ammazza! No! Sei morto! Ok! Dai! Oh! Eh! Non potevi non morire! Non potevi non morire! Eh, no, no! Dammi... Che cacchio fai? Che bene, signori! Abbiamo le armi buone! Uno start buono! E livello 30! Oh! Cos'è questo? Che cos'è questo? Ti prego rompiti e dammi tutto! Ti prego dammi... Ok! Va bene! Va bene! Sì! Ok! Lo accetto! Eh... Accetto tutto e me ne vado! Quanto sono belle le Stark Industries! Non ne avete idea! No! C'è la macchina di Iron Man! Non ci credo mai! Oddio quant'è veloce! Vabbè! Esco! Esco perché ho paura di fare robe... Ma aspetta! Aspettate un attimo! Aspettate un attimo! Cos'è quella roba con scritto Mark 51? Figata! Figata totale! Ora non voglio prendere la macchina altrimenti ci muoio perché quanto loot c'è! Oh mio Dio! No! Una mega trappola! Una mega trappola! Una mega trappola! Immaginavo! Immaginavo! Guardalo lì il tizio! Addio biacch! Addio biacch! Sì la pozza mi va benissimo! No 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 no! Dammi la pozza e scappa! Dammi la pozza e scappa! Pure le bende! No! L'ho trovato viola! Che bene! Che bene! Signori stiamo andando molto bene! Cioè in realtà abbiamo una chi le mancano 30 persone però diciamo che questo è un video solo per esplorare e vedere cosa c'è di nuovo di incredibile assurdo per ridere da blablabla! Ok ok siamo belli carichi! Signori siamo belli carichi! Allora vi faccio di sicuro un taglio voglio andare ad esplorare questa zona qui! La macchina di Iron Man ce l'hanno chiaramente rubata! Anche se un pochino mi dispiace! Ah no guardala qui! Sì! Ok! Signori! Abbiamo la macchina di Iron Man! Allora dammi tutto! Vai! Guida verso la meta! Madò! Madò! Vola macchini! Quanto sarebbe bello se si potesse trasformare! C'è un botto di un botto! Qua c'è un tizio! Scendiamo! Lago del cuore! Ok! Che è tipo l'utlè! Che carino! Vai mori! Yeah! Un colpo! A casa c'ha pure i poteri signori! Non faremo finta di niente e andremo a prendere i powers perché sì! Vogliamo provarli! Quindi! Muori! 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 Eh! L'ho ciccato un botto! È il brutto di quest'arma! Forte è forte! Però! Boh! È un po' No! Devi star calmo! Devi stare calmo! Signorina! Stia calma! Che lo vedo bello agitato sto tizio! 34! Ok! Va bene! Il pompa più forte del gioco ma 34! Va bene! Lo accetto! Vai 50! Beh! Come ha fatto a prendermi? Muori! Sì! Sì signore abbiamo tutto per noi! Yes! Yes! Abbiamo finalmente tutto per noi! Cos'è questo potere? Raggio! Monoraggio di Iron Man! No! Non ci credo! Ok! Va bene abbiamo vinto! Basta finita! Quanto fa di danno? Non lo sapremo mai ma al momento non mi interessa! Non ci credo! Abbiamo il monoraggio e poi guanti repulsor di Iron Man! Ok! 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 E poi il fucile Stark! Ah! Fa vedere questi! No! Che figata! Che figa! Allora facciamo così! Tolgo l'M4! F41 di danno! Mio Dio! No 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 no! Non posso morire adesso! Cioè proprio non posso! No 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 no! Via 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 via! Stai calmo! Devi stare calmo! No! 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 Ah questi ti fan volare! Godo! Ma che cacchio! Editi così ve lo... Ma stai calmo! Va bene! Vai c'è sta c'è sta c'è sta c'è sta c'è sta c'è sta c'è sta! Sì! C'è un tizio sotto! Uh c'è sta Iron Man! C'è sta Iron Man! C'è sta Iron Man! Dammi tutto! No 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 no! Mi stanno già sparando! Mi stanno sparando e non sono neanche entrato! Eh quanto la... Oh mio Dio quanto lagga! Eh armi ne ho scarsissime! Decisamente scarsissime! Via la pistola! Bah! Dai so che c'è un tizio! C'è sempre un tizio! Muori! Muori! Perfetto! Perfetto! Allora voi probabilmente... Cioè sicuramente non lo sentirete ma c'è un casino! Ma un casino che non ne avete idea! Esplodi! Esplodi! Muori! No no c'è il po... Eh niente alla fine va bene va bene Ripperoni! Ripperoni! Ciao! Scappa! Oh! Ok! Bene! E devo spaccare il coso però! Bene ciao! Ciao! Addio per sempre! Per sempre! Ma no che casino! No! Ok! Che casino! Che casino! Bello è bello eh! Ma mamma mia che casino! Ma io volevo vedere dove prendi i poteri! Oh il tipo di prima! No dai ti sei salvato! Oh calmi calmi! Oh c'è un lama! C'è un lama su un albero! Amici! Amici! No dai! Devo prendere... Oddio c'è un... Ma cosa sta tutt'edendo? Devo prendere quella... Quell'ama per forza! Per forza! Vai buttati! Senza morire thank you! E questi mi servono grazie! Buttati ancora! Ok! Vai vai! Usa i materiali! Il lama è lì! Perfetto! Perfetto! Dai spero che non l'abbia visto nessuno! Altrimenti è la fine! Tranquillamente! È la fine! Sì lama! Sì! Dammi tutto! Tutto voglio! E soprattutto questi! Quattro! Bene! Le carrabomba! Mì mamma! La carrabomba! Sì! Sì il poppa! Sì! È pure quello buono! Sì! Ora mi serve una mitroglietta e siamo a pompa! Cioè a posto! Non la pompa a posto! Oddio 63 di danno fa! What? La revolver fa 63! E di headshot quanto? 120! Cioè è l'arma più forte del gioco! Basta me la tengo fino alla fine! Ok! Me la tengo fino alla fine! E mi dia il DMR! Grazie! E pure questo! C'è un tipo! No! No! Ok! 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 C'è il tizio con i mega poteri di... Sta volando! Sta volando! Ok! C'è un tizio che sta volando con i mega poteri di Iron Man! Bene! No! No! Mi è esplosa la macchina in testa! Ma dov'è? Non capisco se è ancora in volo! Non capisco! Perché? Non capisco! Ma mori! No mori! Non io! Tu! Non io! Mori tu! Dai! Eri! No! No! Cioè! Dai! Non ci ho capito niente coi repulsori! Ah! C'è un altro tizio! No! Fa vedere co... Cosa sta succedendo! Ma perché tutti quelli che mi uccidono poi muoiono? Basta signori! Qui ti amola per sempre! Abbiamo visto abbastanza? Ni! Ni! Dai! Cioè io non puntavo alla vittoria reale! Però almeno puntavo a sopravvivere! Perché siamo sopravvissuti all'inizio! Però! Quindi spero che vi sia piaciuto! Abbiamo scoperto un po' di cose interessanti! Soprattutto come non utilizzare repulsori! Ma vabbè! Spero che questo video vi sia piaciuto! Vi ringrazio per la visione! Vi do appuntamento ovviamente domani alla solita ora! Ovvero due e un quarto! Con un nuovo video! Ciao! Ah domani mi sa che faccio uscire Among Us! Sì! Ciao!